Trina di primissimo piano, quella di Barcellona, nella quale il Molise a partire da oggi e fino a venerdì ha portato il meglio da indossare per promuovere l'immagine della regione. Lo scenario è quello della bucheria Storico Mercato Liberty della metropoli catalana, dove l'attore principale sarà il vino. Sarà l'occasione per paragonare la tintiglia molisana al rosso tipico della Canarias, dove il vino rosso, manco a dirlo, si chiama tinto. Accanto alle bottiglie più rappresentative della regione, il movimento turismo del vino ha portato ad assaggiare i prodotti più caratteristici della tavola molisana. Ma alle cinque giornate di Barcellona ci sarà anche il Molise culturale, folcloristico e contemporaneo. In particolare risalto le aree archeologiche che raccontano la storia millenaria del Sannio, con Altilia, Pietra Abbondante e poi San Vincenzo al Volturno, ma anche le origini e la tradizione contadina della nostra terra con il tratturo e le feste rurali. Sempre a Rabbucheria sarà allestita una mostra fotografica sulle bellezze del paesaggio molisano, un Molise da esportazione insomma che tenta anche grazie a iniziative come questa di affarciarsi sul mercato internazionale del turismo, in questo caso partendo dal vino e dalla tintiglia.